Sono Dario Cigliano, eletto nelle liste della PDL sul collegio Napoli 8. La mia idea di provincia è quella di un ente che garantisca maggiore sicurezza e più efficienza ai cittadini. Mi impegnerò in questa consigliatura tenendo presente tre grandi progetti che passano attraverso la manutenzione della strada e quindi la messa in sicurezza delle arterie di competenza della provincia di Napoli, la messa in sicurezza della manutenzione delle scuole e le politiche del lavoro. Questi saranno i tre grandi temi in cui spero di poter affrontare unitamente al Consiglio provinciale tutto per portare alla risoluzione questi problemi che attanagliano la provincia da diversi anni.